Prova di registrazione video con Huawei Mate S risoluzione 1080p, una fotocamera da 13 megapixel passiamo in una zona più scura camminiamo per vedere la stabilizzazione ottica tanto qui abbiamo tra poco un cambio di luminosità vedete in base all'inclinazione del telefono si comporta diversamente la fotocamera passiamo in macro un tap per mettere a fuoco continuiamo a camminare passiamo in una zona di ombra di nuovo un tap per mettere a fuoco ripeto questo è Huawei Mate S che registra 1080p adesso torniamo fuori inquadriamo il cielo facciamo una panna veloce e torniamo ancora una volta in macro messa a fuoco un po' difficoltosa a meno che un special tap per tornare a puntonette questo è Huawei Mate S grazie a tutti grazie a tutti